Perché fate schifo? Siete delle cazzo di merda e mi avete preso e tirato per i capelli? Perché sono caduta! Sono caduta in terra e mi avete calpestato e mi avete tirato i capelli! Avete tenuto a tu una cazzo di ragazzina! Perché? Perché non l'ho fatto un cazzo! Siete delle merda! Come cazzo non fate sentirmi delle merda! Dovete morire! Voi dovete proteggere a noi e chi protegge a noi da voi! E voi giornalisti siete complici! Perché fate vedere sempre il cazzo che volete! Il cazzo che volete! Voi siete il cazzo degli strumenti della propaganda del governo di merda! Vergognatevi! Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.